Musica Dipendenti della RSA di Montereale in cassa integrazione in attesa del trasferimento all'exompi. Anche questi sono effetti del terremoto. Cassa integrazione a zero ore dal primo febbraio fino al 31 marzo prossimo per i dipendenti della cooperativa Quadrifoglio. Sono dipendenti che lavorano nella struttura sanitaria di Montereale, struttura sanitaria assistita, RSA, chiusa dopo le scosse di terremoto del 18 gennaio. I pazienti sono stati trasferiti tutti in altre residenze ospedaliere. Non è ancora completato infatti un iter burocratico che sta apparendo molto lungo che consentirebbe invece all'exompi, la struttura di assistenza aquilana del comune dell'Aquila, di ospitare tutti e 35 pazienti di Montereale, con il conseguente reintrogue dei lavoratori della COP Quadrifoglio. La proposta di utilizzare l'exompi era emersa in una riunione del 26 gennaio scorso tra i vertici della ASL, i rappresentanti del comune dell'Aquila e dalle altre istituzioni, le sigle sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, avanzata dal capogruppo del PD al Consiglio Comunale Stefano Palumbo, per conto del comune dell'Aquila, proprio per garantire la continuità lavorativa ed evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali. L'ungaggine e procedure di verifica delle normative ASL, che però rischiano di mettere in seria difficoltà tutti i dipendenti. Intanto il prossimo 13 marzo ci sarà una nuova riunione con la ASL e i rappresentanti delle istituzioni. Sul tavolo ci sarà proprio la vicenda dello spostamento dei pazienti, una ventina, ci sono i posti all'exompi in teoria già disponibili, questi dovrebbero consentire l'ampliamento dei posti letto fino a coprire quelli 35 necessari. I lavoratori sono pronti anche ad entrare in sciopero se non ci saranno delle risposte chiare. Le persone anziane di età superiore agli 80 anni oppure 75 in caso di invalidità del 100% potranno restare negli alloggi del progetto case messi a disposizione dal comune dell'Aquila anche laddove tornasse agibile l'abitazione danneggiata dal sisma, ovviamente su richiesta e corrisponsione del canone di locazione previsto. Lo ha stabilito l'aggiunta comunale dell'Aquila accogliendo una proposta deliberativa presentata dall'assessore all'assistenza alla popolazione Fabio Pelini. Abbiamo adottato questa deliberazione in ragione del fatto che molti anziani hanno manifestato la volontà di restare nell'alloggio del progetto case, ha dichiarato l'assessore Fabio Pelini in considerazione della socialità che in questi anni hanno avuto modo di ricrearsi anche dal fatto che non tutte le abitazioni ristrutturate sono accessibili per persone anziane in quanto per esempio sprovviste di ascensore. Per questa ragione, ha spiegato Pelini, daremo la possibilità di restare nell'alloggio agli anziani di età superiore agli 80 anni oppure agli ultra 75 anni con l'invalidità del 100%. L'autorizzazione verrà accordata, previa richiesta, a fronte del pagamento ovviamente del canone di locazione come stabilito sulla base della grandezza dell'alloggio del quartiere dove quest'ultimo è ubicato. Non sarà possibile, ha detto anche l'assessore, cedere le abitazioni in subaffitto in questo senso verranno effettuati anche dei controlli per verificare, come nei casi di cambio di residenza l'effettiva permanenza del domicilio.